Troppe emozioni, Diego Maradona in ospedale. È accaduto dopo l'incontro dell'Argentina contro la Nigeria a San Pietroburgo, quello che ha sancito il passaggio dell'Albino Celeste al secondo turno dei mondiali di Russia, dopo i primi due incontri in cui Messi e compagna avevano raccolto appena un punto. Il pibe de oro, dopo la partita, è stato portato quasi di peso in un box privato della sua guardia del corpo. Motivo del malore, uno sbalzo in alto della pressione e dolori alla nuca. Le condizioni dell'ex campione non desterebbero però preoccupazione.